Un saluto dallo Stelvio anche da parte mia, a tutti gli amici del premio Fair Play, è stato un onore prendere questo premio anche per me e adesso guardiamo di ripartire tutti insieme dopo questa situazione non facile, ci vuole forza e coraggio e sicuramente insieme troveremo questa forza a ripartire, un saluto a tutti quanti da Manfred Mölk e ci vediamo presto, ciao!